La riabilitazione presso le strutture pubbliche nuoresi si arricchisce di due nuovi impianti negli ex locali lavanderia dell'ospedale Cesare Zonchello, uno con due vasche riabilitative e l'altro con una palestra collettiva. Un progetto che si prefigura già come un fiore all'occhiello atteso da anni e fortemente evoluto dalla direzione generale dell'ASL3 di Nuoro. L'inaugurazione del padiglione si è tenuta questa mattina alla presenza delle autorità civili e religiose. Allora innanzitutto è una struttura d'eccellenza perché le piscine quindi un unicum a livello regionale e poi dà il via a una serie di riforme di potenziamento della riabilitazione che passano sia dai posti letto ex articolo 26 di Macomera una decina ma metteremo posti letto anche qui allo Zonchello ovviamente non qui dentro e anche al Sorgono quindi è come dire uno dei tasselli della nuova riabilitazione aziendale. Un approccio riabilitativo, quello idroterapico, particolarmente indicato per i pazienti con patologie cardiorespiratorie, post-traumatiche e neurologiche soprattutto quando trattate precocemente. L'altro aspetto positivo è quello psicologico perché il paziente, soprattutto il paziente con grosse disabilità, in acqua è come se si svincolasse dall'handicap, dalla disabilità, è come se si liberasse appunto temporaneamente da quella condizione di legame e di costrizione. In definitiva un effetto veramente positivo, grande. Soddisfazione da parte del gruppo Forza Italia Nurese è che già nei mesi scorsi aveva sollecitato più volte la riapertura del padiglione. L'ospicio di Forza Italia è che a questo risultato che abbiamo appena ottenuto seguono altre strategie che portino a rafforzare tutti i servizi sanitari, non soltanto quelli riabilitativi. Una grossa opportunità per la città di Nuoro ma anche per tutto il territorio. Grazie.